Da domani, dopo il ralentamento fisiologico di agosto, riprenderanno a pieno ritmo le vaccinazioni nel Lab di Via Tirino a Pescara. In questi giorni si registra, in coincidenza con l'avvio del nuovo anno scolastico, un aumento di inoculazioni per personale docente e non docente, oltre che per gli studenti. Per i prossimi 30 giorni si continuerà a vaccinare al Palafiere, mentre ad ottobre potrebbe esserci un trasferimento in altra sede. Ai nostri microfoni il dottor Giuseppe Di Bartolomeo, responsabile del Lab vaccinale di Pescara. Al Lab di Via Tirino, quindi al Palafiere, vaccineremo tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, solo al mattino, per tutto il mese di settembre. La certezza ci è stata data proprio questa mattina che fino al 30 settembre abbiamo la disponibilità del Palafiere. A ottobre non sapremo poi quale sarà l'Hub, la sede vaccinale di Pescara. Ci sono ancora delle trattative in corso tra il Comune e altre strutture. Stanno arrivando circa 100 persone non prenotate ogni giorno, questa è la media degli ultimi giorni. Speriamo che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane la flusso sia ancora maggiore. Non abbiamo assolutamente più problemi di rifornimento dei vaccini, né di personale. Quindi adesso sta tutto nella popolazione che non si è ancora vaccinata venire e fare questo dovere civico per se stessi e per gli altri. Infatti in questi ultimi giorni stiamo vedendo appunto anche del personale scolastico, insegnanti, ma anche gli stessi studenti che stanno venendo un po' di più rispetto al passato appunto per il Green Pass. Però il Green Pass deve essere un incentivo a vaccinarsi. Il Green Pass è solo un problema burocratico ma l'importante è vaccinarsi. L'Hub di Pescara, dottor Di Bartolomeo, rappresenta un'eccellenza non solo in Abruzzo. Un mese fa è venuto a Pescara il Presidente del Senato elogiando proprio l'organizzazione e il lavoro di Viatirino. Sì, infatti, infatti noi siamo veramente orgogliosi. Noi ce l'abbiamo messa sempre tutto il personale dal personale medico, infermieristico, sanità e protezione civile, vigili urbani. Quindi sono stati veramente, tutti siamo stati, ci metto anch'io, tutti oncogliosi di questo elogio fatto dal Presidente del Senato. Abbiamo una scorta sufficiente per tutto il mese di settembre. Se l'andamento delle vaccinazioni giornaliere rimane questo, poi se dovesse esserci come speriamo un notevole incremento, allora dobbiamo rivedere le cose. Ma al momento non c'è nessun problema.